Lanza va a chiudere la parallela vincente 2 a 1 Lanza non sbaglia Lanza Riesce a mettere dall'altra parte con l'aiuto del nastro Lanza ancora tra il muro di Saeed e Chester Brunetti e ancora Lanza non sbaglia, diagonale incredibile Ancora Lanza sul petto praticamente di Rossard dell'undicesimo punto Monza Cono Callipo l'alzata di Rizzo, Rossard ci arriva Orduna, alza Zavoronocco per Lanza con la mano sinistra, questo è un colpo d'autore Orduna, Lanza, è un gran colpo questo di Lanza che finita l'attacco di Cotenza Zavoronoc, Orduna, chiama Lanza, Murato pur di giocare Orduna, ancora Lanza, muro a 1 stavolta, solo Cinenese e passa, non ha problemi Lanza C'è un po' di giocare 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 C'è un po' di giocare